Il zio Ferino Guidi ha una sua storia personale, rappresenta San Benedetto, ma anche perché a livello personale hai ricevuto degli oneri importanti. Sì, sono stato il CT della Nazionale della Pesca Sportiva Italiana di Cannadariva. Infatti nel 2014 ho giocato in casa nella partecipazione come CT all'Europa di Cannadariva e in quell'occasione abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere facendo i primi tre assoluti a livello individuale e le prime due squadre, l'Italia si era presentata quella volta con due squadre, non con tre. Quindi abbiamo vinto tutto, era andata molto bene. E anche come organizzazione organizzava sempre la Pesca di San Benedetto, ci siamo distinti e ci hanno fatto tutti i complimenti. Buon lavoro. Grazie.